Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Cosa sta succedendo dietro le quinte del GF VIP in queste ore? Pare si hanno previsti nuovi ingressi e un colpo di scena di coppia Quest'anno il GF VIP sta riservando una sorpresa dietro l'altra eppure le polemiche non mancano. Scopriamo insieme quale potrebbe essere la proposta indecenti delle ultime ore, dietro le quinte del reality di Canale 5 Forse nemmeno Alfonso Signorini si aspettava di condurre un'edizione così e complicata Il suo GF VIP sta riservando una sorpresa dietro l'altra a volte con bocconi amari da digerire Il caso Bellavia ha tenuto banco per giorni e le tensioni ancora non si sciolgono Tutti parlano e scrivono del GF VIP in attesa di nuovi provvedimenti per i vipponi Qualcuno in casa infatti sembra non aver imparato la lezione e scoppiano nuove polemiche soprattutto a carico di Geggia e Charlie Gnocchi Fortunatamente il reality concede ancora momenti di svago, intrattenimento e commozione Dopotutto il grande fratello è anche questo, deve scuotere l'anima di chi lo guarda Signorini sta facendo un lavoro incredibile, barcaminandosi tra una polemica e l'altra, tra le denunce del Kodakonze e con il fiato sul collo degli spettatori inviperiti, davanti a certe esternazioni dei vipponi Fare ripartire il reality di Canale 5 non sarà semplice poiché il conduttore dovrà riconquistarsi la fiducia del suo pubblico Le sue prese di posizione sono state apprezzate dagli spettatori che però attendono un colpo di scena definitivo Nelle ultime ore si parla esattamente di questo, entrano in coppia Di chi si tratta? Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci, il pubblico si è diviso Purtroppo i due vipponi stanno subendo episodi di bullismo all'esterno nella casa del GF VIP, come contraccolpo di tutto il quello che è accaduto La denuncia di Signorini è stata chiara, non si può rispondere al bullismo con il bullismo Così nelle ultime ore arriva una proposta bollente che metterebbe d'accordo a tutti Ginevra Lamborghini e Emma e Marco Bellavia potrebbero entrare in coppia al GF VIP come seconda chance Qualche utente sui social network propone questa idea a scopo educativo e non è da escludere che il GF passa a prenderla in considerazione Marco Bellavia potrebbe rientrare serenamente nel gioco ma per quanto riguarda Ginevra Lamborghini esiste un problema di fondo, la squalifica dovrebbe essere di fatto annullata Il regolamento prevede questa possibilità? Pare che gli autori potrebbero spulciare le varie opzioni e allora sì che gli spettatori sarebbero incuriositi nuovamente Staremo a vedere cosa accadrà.Grazie per aver guardato l'intero video La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video